Facciamo corsi in continuazione quasi tutti a fine settimana e anche come oggi durante l'orario di lavoro. Credo che sia uno dei punti fondamentali per un professionista di qualunque età per rimanere aggiornato. L'Aeris Academy è fondamentale per noi genisti in quanto ci permette di mantenerci aggiornati. Il corso di formazione di oggi è stato molto utile in quanto uno dei passaggi più importanti è stato la diagnosi differenziale endodontica e parodontale. Il corso di generale di oggi è molto interessante perché ci ha permesso di interagire tra i colleghi e di migliorarci perché comunque sia riusciamo in questo modo a relazionarci con l'odontoiatra e con l'igiennista e creare un piano di cura più adeguato per il paziente. Almeno una volta al mese seguiamo questi corsi di formazione che ci aiutano a migliorare e a comprendere meglio quelle che sono le problematiche che possiamo affrontare in studio. Al prossimo episodio